Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di Flash Academy. State sintonizzati! Hi guys, welcome back to my channel. I want to talk to you today about Flash Academy. Stay tuned! Sono appena tornata dall'Italia. Ho passato un mese lì con un gruppo di matta studenti ad Arezzo, dove abbiamo studiato la lingua e la cultura. È stato fantastico imparare la lingua in Italia, studiando in una scuola con gli insegnanti che hanno scritto le parole su una lavagna e che hanno pronunciato bene nuove parole in maniera da sentire l'accento e le sfumature di suono. I've just returned from Italy. I spent a month there with a new group of matta language learners in Arezzo. studying language and culture. It was great to learn the language in Italy, studying at a school with teachers who wrote words on a blackboard and spoke new words clearly in order to pick up the accents and nuances of sound. Però è stata sempre la mia filosofia che non è necessario vivere nel paese della lingua che si sta imparando. Dipende invece della vostra motivazione e grinta. Inoltre, adesso non ci sono scuse per imparare la lingua anche se abitate in un posto remoto o lontano dall'Italia. Secondo me, è possibile creare un ambiente di immersione a casa. Oggi ci sono tanti modi per sentire la lingua attraverso internet, podcast, YouTube video e nuove app. But it's always been my philosophy that you do not need to live in the country of the language you are learning. It depends instead on your motivation and determination. In addition, these days there are no excuses for not learning the language even if you live in a remote place or far, far away from Italy. In my opinion, you can create an atmosphere of immersion at home. Today there are so many ways to access the language through the internet, podcast, YouTube videos and new apps. Infatti, sono qui per parlarvi di una fantastica nuova mobile app intitolato Flash Academy. Indeed, today I'm here to talk to you about a fantastic new mobile app called Flash Academy. È l'idea della società dietro FlashDix, la compagnia che ha creato il modo per imparare una lingua straniera usando i post-it notes. Ricordate un video che ho fatto l'anno scorso su di questa app? Passando il cagliare sopra una dei post-it note, potete sentire un madrelingua dire la parola. Quando Francesco, il direttore di marketing, mi ha fatto sapere di questa app l'anno scorso, era molto convinto che fosse uno strumento utile per l'apprendimento della lingua. It's the idea of the company behind FlashDix, the company that created the app to learn a foreign language using the post-it note system. Remember a video I did last year on this app? Simply passing your cell phone over a post-it note, you can hear a native language speaker say the word. When Francesco, the marketing director, contacted me last year and introduced me to this app, I was immediately captivated and convinced that it was a useful language tool. Da quando ho fatto il mio video su FlashDix, le cose sono diventate ancora migliori. Ora l'applicazione è stata rinnovata ed è migliorata immensamente. Ho appena scaricata l'app e l'ho provata. La trovo molto figa. È come avere una scuola nella vostra tasca. L'app è disponibile per iPhone e Android. Potete imparare ovunque siate, a casa, in treno, nel parco. È facile da usare e adatta ad ogni necessità. Since I've made my video last year on FlashDix, things have gotten even better. Now the application has been updated and it's been improved immensely. I just downloaded the app and tried it. I think it's pretty cool. It's like having a school in your pocket. The new app is available for Apple iPhone and Android and you can learn wherever you are, at home, on the train, in the park. It's easy to use and very flexible. Adesso l'app ha una nuova interfaccia e nuove immagini. Si concentra adesso sul progresso dello studente verso la laurea del programma di Flash Academy. Ogni lezione porta la studente in avanti. La curva dell'apprendimento va veloci, veloci con nuove lezioni interattive. Now the app has a new interface with new images. It focuses on the progress of the student towards graduation from the Flash Academy. Each lesson moves the student forward, the learning curve is fast-paced with new interactive lessons. Potete imparare nuove parole e frasi facilmente in una serie di breve lezioni che funzionano come dei giochi. C'è sempre la possibilità di sentire la voce di una madrelingua e vedere i video per praticare la pronuncia. Ci sono anche suggerimenti sulla grammatica e la cultura italiana. Le lezioni durano solo 5 minuti e dopo aver superato un livello, la prossima lezione è sblocata. Poi, per praticare quello che avete già imparato, ci sono altri giochi per fissare l'informazione che avete già memorizzato. si può anche ispirare altri studenti per vincere i punti. You can learn new words and phrases easily in a series of short lessons that work like games. There is also the possibility of hearing the voice of a native speaker and watch videos to practice pronunciation. There are also tips on grammar and Italian culture. The classes last only 5 minutes and after passing a level, the next lesson is unlocked. To practice what you have already learned, there are other games to reinforce the information you have just learned. And you can challenge other students to win points. All'interno di ogni lezione, gli studenti possono anche sfogliare nuove parole usando una serie di flashcards con accesso a video di madrelingua, frasi utili, consigli gratinicali che contribuiscono a migliorare la pronuncia e approfondire la conoscenza della lingua. Ci sono quasi 300 lezioni disponibili per ogni lingua, con 6 lezioni inizialmente offerte gratuitamente in modo che gli studenti possano sperimentare e vedere quanto sia facile da imparare. Inoltre, nuove lezioni sono aggiunte col tempo. Within each lesson, the student can also browse new words using a number of flashcards with access to a native video, useful phrases, grammar tips that help improve pronunciation. And this deepens the knowledge of the language. There are nearly 300 lessons available for each language with 6 lessons initially offered for free so that the student can experiment and see just how easy it is to learn with this app. New lessons are always being added over time as well. Adesso siete pronti? Adesso la cosa più bella o un piccolo regalo per tutti voi insieme a Flash Academy vorrei offrirvi un'oferta speciale. Tutti coloro che sottoscrivono l'opzione premium riceveranno un pacchetto gratuito di FlashDix. Now, the best thing I have for you is a small gift. Along with Flash Academy, I would like to offer you a very special deal. Everyone who subscribes to the premium option when you download the app will receive a free package of FlashDix. Woohoo! Potete trovare i link sul mio sito studentessalmata.com per scaricare l'app e anche per l'offerta speciale. Che state aspettando? What are you waiting for? Provateci voi! Come on! Try it! Fatemi sapere che ne pensate dell'app. Let me know what you think of the app. Buon apprendimento! Alla prossima! Ciao! Siamo a temati con me e questo è il bello, credete a me